Poi Erbach, mi passeresti gentilmente lo zucchero? Con immenso piacere mio caro Deda, ecco a lei. Grazie. Mi dica D'Artilus, cosa ne pensa di queste bellissime giornate colorate e autunnali? Giornate stupende, però in me sono troppo corte. Ah, quante ragione, l'inverno ingregisce tutto e accorcia le giornate. Oh, il buon Arrigo. Grazie caro. Può sparecchiare Arrigo? Certamente. Una lettera. E di chi ti grazia? Tale Giampaolo Blizzard. Giampaolo? Sì. Mi sembra di averlo già conosciuto al Country Club, ma potrei sbagliare. Vediamo un po'. Cosa dice? Allora, mannaggia, questa luce non mi permette di leggere. Aspettate. Ah, ecco. Allora, il nostro canale, sapete quello su cui facciamo i nostri video amatoriali? Ah, su cui diamo conoscenza ai poveri che non hanno la possibilità. Stolti. Stolti, bravo. E lì sta per il programma Influencer, questi termini inglesi che cercano di fare aristocratico, per diventare supporter blizzard, firmato a tale Zidaris. Ah, quello sciatto. Conoscete? Sì, persona sciattissima. No, dai, è una brava persona in fondo. Ma a me sinceramente sembra una cosa da non perderci neanche un attimo di tempo. Per me? No, dai, è una brava persona in fondo. And this is me, to me, to me, to me. I told you, all the boys, you can't judge this. Break it down! Grazie a tutti